Un caro saluto agli ascoltatori e a quelli che ci fanno seguire tramite YouTube, canale Arturnura. Oggi dobbiamo parlare di ingiustizia, in cui sicuramente sono in tanti quelli che stanno cercando di lavorare bene e di fare più trasparenza a quello che succede all'individuo. Oggi parliamo in modo particolare su quello che succede in Italia e dobbiamo parlare di un libro, di un lavoro, un libro che ha sempre un grande lavoro dietro e ospite di oggi è Antonio Gerardo Delicco. Grazie di aver accettato questa intervista. Grazie a te, grazie a te Artur, figurati, e ai tuoi ascoltatori. Gli ascoltatori e quelli che ci seguono tramite i canali YouTube, che è molto divulgativo. Intanto, ringraziando per aver accettato questa intervista, io da giornalista so che di ingiustizia ci sono tanti problemi, dunque della giustizia che non funziona bene, poiché non siamo perfetti e il sistema è peggio di noi. Intanto, prima vorrei fare una veloce introduzione su di lei. Di cosa ti occupi, come hai fatto altri libri, per quelli che non ti conoscono? Parliamo di un mondo intero, no? L'italiano è una lingua divulgativa. Assolutamente. Beh, io ho studiato, sono di origini campane, di Avellino, dell'Appennino, delle colline insomma interne all'Italia. E mi sono laureato in biologia a Milano. Quindi vivo a Milano da quando mi sono trasferito da giovane e vivo qua a Milano. Dopo la laurea mi sono dedicato a tante cose, alla scrittura, al teatro e all'insegnamento. E insegno in un liceo classico, un liceo Carducci di Milano. E insegno scienze appunto, perché sono biologo. Quindi, vabbè, insomma, dicevo, questa è la presentazione più sintetica che io possa fare di me. Però ho fatto tantissime cose. Vogliamo parlare dei libri che pubblicano. Siamo lo stesso per dare il nostro contributo alla società, poiché la società non è perfetta e poi la democrazia non è perfetta e anche il sistema giudiziario. Lei ha appena pubblicato un libro, se non mi sbaglio. Sì, beh, io appunto sempre ho pubblicato tantissimi libri e ho pubblicato tra i tanti libri la biografia di Marco Pannella, scritta insieme a Marco Pannella, insomma, no? Quindi ho fatto la biografia di cantanti come Pino Daniele, c'è un cantante napoletano famoso in tutto il mondo. Insomma, ho fatto tante cose. Ho fatto la biografia di un pentito di Camorra, un boss. Sì, era molto interessante perché appunto apre uno sguardo su qualcosa che magari la gente comune ha anche un po' di dubbio, no? Di terrore anche, c'ho fatto molto, insomma, no? Quindi mi sono interessato perché appunto, come dicevi bene Arthur, mi sono interessato perché bisogna contribuire a conoscere ogni cosa intorno a noi, anche ciò che non ci piace, anche ciò che è ingiusto. L'ultimo libro che ho fatto è questo libro, si chiama L'uso ingiusto della giustizia. Perché molte volte appunto non è una questione di giustizia in sé, ma è una questione di come viene utilizzata la giustizia, di come viene rappresentata nei tribunali. Hai scoperto che ci sono anche delle cattiverie, no? Nel usare il sistema giudiziario. Infatti questo libro mi ha molto coinvolto, perché come dicevo, io ho scritto la biografia, mi ha coinvolto perché sono testimonianze di sette personaggi che hanno subito da uno stesso giudice processi non sempre molto chiari, molto necessari, ma processi, sì, cattivi, processi persecutori, dove chi esercita il potere della giustizia, che poi ha in mano le mani, che ha in mano le vite delle persone, e molte volte queste vite vanno rispettate, specie se innocenti, ancora di più se innocenti, ma allo stesso modo anche se colpevoli, perché la giustizia non è una, come dire... È un sistema, non è una vendetta, dunque. Esatto, e quindi bisogna stare attento a... I giudizi dovrebbero avere questa attenzione alle vite delle persone che hanno di fronte e giudicarle secondo colpe, secondo le colpe, insomma le colpe vanno anche giudicate, bisogna anche pagare per una colpa, ma il pagare non è certo appunto come una volta. Pagare secondo la legge e secondo le regole, altrimenti non fai il giusto, fai l'ingiusto. Esatto, nel caso invece di persone innocenti, perché poi hanno svolto tutti, si sono svolti i loro processi e sono risultati assolti da decine e decine di processi, cioè ecco la persecuzione in questo, la persecuzione non è tanto che va, ti indago perché voglio vedere come stai, certo lo puoi fare, però se mi indaghi dieci volte per qualsiasi cosa tu presupponga, vada fatta una certa indagine, allora non è più giustizia, allora diventa persecuzione. E queste persone, persone anche di un certo calibro, sono persone, e anche persone comuni, ad esempio c'era un imprenditore della costa marchigiana che aveva un camping con duemila persone, l'affluenza era di duemila persone, questo camping, insomma una cosa importante, famoso, anche perché lui aveva dei contatti con l'Est, ad esempio in seco slovacca, gli hanno dedicato un franco bollo, perché era talmente noto, i suoi scambi, aveva 92 anni, è morto quest'anno, l'anno scorso io ho iniziato ad accogliere queste testimonianze, e quest'anno si chiama Felice Chiesa, un signore di un vivo, forte, così l'ho conosciuto, l'anno scorso appunto, l'ho iniziato, e quest'anno è morto, ma quando l'ho conosciuto era molto avvilito, molto avvilito, perché lui aveva questo, ha creato più strutture ricettive sulla costiera marchigiana, quindi alla fine era l'ultimo di duemila persone, ma era un personaggio noto, e quindi diceva, ma come sono qua? Lui era di origini liguri, cioè della Spezia, ma come? Ma sono 60 anni che lavoro in questo settore, ho messo col mio lavoro, ho dato altre persone, ho dato altro lavoro ad altre persone, ho messo a posto le scogliere di fronte al mare, perché con le mareggiate poi il mare si rovina, cioè ha sempre contribuito insieme alle autorità politiche, anche lui stesso è stato un politico, mi sono sempre dato da fare, non per guadagnare, ma per guadagnare il giusto e per fare anche ciò che arricchisce un luogo, qualcosa, e essere trattato così gli ha chiuso per tre anni il camping, era molto avvilito, e poi certe volte la giustizia è anche uno show, uno show, cioè gli mandava questo giudice, ma senza nessun motivo, senza nessuna così, per un pregiudizio, oppure non so, molto spesso ricordava anche a lettere anonime, sai, poi c'è la giustizia che si fa attraverso le lettere anonime, che giustizia è? Ognuno scrive quello che vuole. Mi stanno dire recente, l'argomento politico, giustizia giusta, c'ha uno spessore importante in Italia, e lei che ha fatto la biografia di Marco Panela, sai che Marco Panela, da punto di vista di politico, era un combattente della giustizia giusta, ma contributo di tutti può cambiare la realtà, contributo di uno scrittore che fa pubblicare uno libro argomentando i casi, è un contributo che vale la pena fare i complimenti e leggere quello che ha scritto lui. C'è, allora, chi ci ascolta, chi ci segue tramite il canale, sicuramente Radio Radicale darà uno spazio dovuto a lei e al suo libro, ma parliamo qua per anticipare la cosa. Dove possono trovare il libro gli italiani che vogliono leggerlo? Il libro è appena uscito, quindi possono trovarlo per ora ordinandolo in tutte le librerie, ma anche su tutti gli store online, IBS, Amazon, cioè tutti gli store online, Feltrinelli, insomma tutti gli store, Mondadori, Mondadori, in questo momento è online, lo si trova, appunto il titolo è l'uso ingiusto della giustizia con la prefazione di Rita Bernardini, dell'onorevole Rita Bernardini. Oh, Rita Bernardini, dobbiamo salutare Rita se ci segue. Esatto. La simpaticissima politica italiana, radicale, storica. Esatto. Abbiamo fatto anche delle trasmissioni insieme, è stata veramente sempre molto attenta, molto puntuale, Rita molto vicina. e sì, sì, io diciamo che non sono un radicale militante, però simpatizzante sicuramente, quindi ho incontrato, allora il fatto che, quindi conosco un po' la storia dei radicali, anche attraverso la biografia. è una bellissima storia dei radicali, bisogna dire. Assolutamente, assolutamente, no, dico, non sono militante perché, per tanti motivi, perché la vita nostra, ognuno ha tanto, ecco, però, però, la loro presenza, il loro, stare al fianco di persone così, come la Bernardini, ad esempio, fai la cosa giusta, fai la cosa giusta, esatto, esatto, io che sono da più di vent'anni, da vicino a loro, sono militante, sono un giornalista di Radio Radicale, ma sono con lo spirito, poiché loro sono quelli che sono, e non li puoi trovare ovunque, poiché sono idealisti, sono bravi, sono passionanti. Sì, e sono colti, io ho visto, ad esempio, una cosa molto interessante, colti politicamente, non colti in generale, perché in generale, ognuno può essere colto, ma no, sono colti nel senso che loro studiano la politica, studiano gli eventi, studiano i fatti, e questo qua è molto, è molto interessante, perché, perché abbiamo politici, che fanno solo degli interessi propri, senza nessuna cultura politica, cioè, si mettono dentro un sistema, invece loro studiano la politica, la esercitano con razionalità, e quindi portano, sicuramente qualcosa di buono, cioè, non hanno pregiudizi, ecco, sono un po' anarchici, perché poi nasce anche da questo, anarchici, cioè, senza la ricerca della libertà, senza, senza costrizioni, e quindi, sicuramente, non fanno mai compromessi per il voto, fanno compromessi per la giustizia, per le cose giuste, la differenza tra loro e gli altri, è proprio questa, tra loro, tra noi e gli altri. Assolutamente, sono d'accordo con te, fra noi, sì, perché io ho veramente, avendo le conoscenze, ho fatto nel 2011, forse la biografia di Pannella, sì, da giovane, però non ero dentro le cose, quando ho visto come lavorano, come fanno, veramente, è auspicabile che diventino, veramente, che ritornino ai vecchi albori di una volta, negli anni 80, sono arrivati al 10% di consenso politico, è un peccato che adesso sia molto ridotto il consenso, però bisogna continuare, lavorare, sicuramente. Sanno sempre come rialzarsi loro, la loro storia c'ha tanti giù e su, però sono sempre rimasti gli stessi, senza fare compromessi per quelli che siamo. Allora, un'altra informazione, facciamo diventare pragmatici ora, per chi segue, deve comprare il titolo del libro e chi l'ha fatto pubblicare, la casa editrice. Allora, il titolo è L'uso ingiusto della giustizia. La casa editrice è un piccolo editore di Livorno, però anche lui molto attivo, perché addirittura abbiamo avuto anche difficoltà a pubblicarla, perché io avevo altri editori un po' più diffusi, però qualcuno ha avuto un po' di timore, perché anche il tema era scottante, e quindi abbiamo trovato questo editore forte che ci sta affiancando, che si chiama Libeccio Editore, o CTL, gruppo CTL di Livorno, è un gruppo piccolo, però insomma attivo, si sta espandendo, e quindi è importante appunto non tanto trovare Mondadori, io ho pubblicato Mondadori, Rizzoli, tanti ho pubblicati, però questi libri qua, fondamentalmente è meglio avere un editore che crede in quello che fa e non lo butta in un ucchio. Non che pensa soltanto a quelli approfiti, che è naturale pensare comunque. Io la ringrazio di questa intervista e sicuramente se verrà anche in Albania quando io vengo a Roma, lo prendo, lo compro e lo leggo volentieri. Grazie. Per il contributo di tutti per fare di noi, del nostro meglio, un mondo e una società migliore. La ringrazio ancora. Grazie. Grazie a te. Buca il buco. Grazie. 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 Grazie.